Buonasera, buonasera a tutti, intanto presento l'ospite che è accanto a me, il primario di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento e del Ministero della Salute. Saluto anche Susanna Di Pietra che rientra qui con noi, l'interprete Liss che è con noi tutte le sere e che ringrazio per la sua partecipazione e collaborazione. Per quanto riguarda il bilancio di oggi, il totale delle persone attualmente positive è di 73.880, con un incremento dei positivi di 3.851 pazienti rispetto a ieri. Di questi 3.906 sono in terapia intensiva, 27.386 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte 42.588, il 58% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo oggi registriamo 756 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 13.030 persone. Rispetto a ieri sono 646 le persone guarite in più. Oggi è proseguita l'attività della centrale remota di soccorso sanitario. Ad oggi i pazienti trasferiti dalla Lombardia sono 92, 8 pazienti rispetto a ieri. Il totale dei pazienti trasferiti è di 52 pazienti covid e 40 pazienti non covid. Solo oggi sono stati trasferiti 8 pazienti affetti da coronavirus e sono stati trasferiti in Germania. Più precisamente due da Bergamo sono stati trasferiti a Norimberga e sei in un unico volo dell'aeronautica tedesca da Cremona a Colonia. Ringraziamo il governo tedesco, la Germania, per aver messo a disposizione nel nostro Paese posti letto nei reparti di terapia intensiva, posti letto che stiamo utilizzando. Nei prossimi giorni ci saranno ancora altri trasferimenti dalla Lombardia e dalle regioni più compromesse del nostro Paese. Voglio anche ringraziare il popolo albanese e il Presidente Edirama per le parole con cui ha commentato la partenza di 30 tra medici e infermieri ha dimostrato una vicinanza non solo geografica al nostro Paese rinnovando un rapporto reciproco con il Dipartimento della Protezione Civile che va avanti da anni. Voglio ricordare che sul finire dell'anno scorso quando c'è stato in Albania un terremoto devastante il nostro Paese è intervenuto, il sistema di protezione civile è intervenuto a supporto delle autorità albanesi. Per quanto riguarda le forze in campo oggi sono stati impiegati 13.302 volontari a cui si aggiungono le forze dell'ordine, le forze armate, i dipendenti del Dipartimento e i sanitari delle regioni e delle strutture operative. E' rimasto immutato il numero delle tende che abbiamo installato per le attività di pre-triage degli ospedali 774, 151 sono state le tende di pre-triage negli istituti penitenziali. E' proseguita anche l'attività di distribuzione dei materiali acquisiti dal Commissario Arcuri. Questa mattina abbiamo avuto conferma nel Comitato Operativo che le mascherine che erano state distribuite ieri, 2.300.000 mascherine chirurgiche, 1.700.000 mascherine FFP2 per il personale sanitario sono stati consegnati regolarmente nella giornata di ieri grazie anche a una rimodulazione di quella che è l'organizzazione della distribuzione con un intervento delle forze armate che voglio ringraziare in un gioco di squadra che è quello del sistema di protezione civile. Quindi grazie a questo rinnovato impegno e rinnovata organizzazione siamo stati in grado di utilizzare vettori aerei per raggiungere le regioni interessate dalla distribuzione. Voglio anche ricordare che ieri sera si è chiusa la call per gli infermieri. abbiamo ricevuto 9.448 domande, il 55% sono donne, il 45% sono uomini, il 50% degli infermieri sono infermieri specializzati nei settori sanitari di emergenza e di urgenza. La maggior parte delle domande proviene dalle regioni Lazio, Lombardia e Campania e stiamo procedendo con l'individuazione del primo contingente di infermieri da far partire, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle regioni che hanno una maggiore fabbisogno e dall'altro anche il livello delle persone contagiate, il livello di impiego da parte degli ospedali, quindi privilegiando quelle regioni che hanno minore fabbisogno assistenziale. Voglio anche ricordare che circolano dei falsi volantini con intestazione del Ministero dell'Interno, per questo vi raccomandiamo di segnalare le comunicazioni sospette alle forze dell'ordine e di informarsi solo attraverso quelli che sono i canali ufficiali. Infine permettetemi di dire che in questi mesi che stiamo combattendo senza sosta contro un nemico invisibile tanti tra gli operatori sanitari e anche gli operatori del soccorso hanno contratto il virus, dai medici agli infermieri, dalle forze armate agli operatori dei servizi essenziali, ai colleghi delle regioni, ai colleghi anche del Dipartimento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai volontari. A tutti loro va il mio augurio di pronta guarigione e ringraziamento per quanto hanno fatto al servizio del Paese. Io mi fermo qui, do la parola al Professore Richeldi per il suo intervento. Grazie dottor Borrelli. Io sono un clinico, sono un pneumologo quindi mi occupo di pazienti e quindi non vorrei addentrarmi o soffermarmi su questioni di tipo epidemiologico o di tipo di trend di casistiche di cui non sono un esperto quindi non parlo di quello che non so. Guardando però i numeri di questo fine settimana, di questo venerdì, sabato e domenica, 27, 28 e 29, guardando il numero che fosse il più crudo, certamente, che è quello delle persone decedute, siamo passati da 969 a 889 a 756. Ora questi sono cambiamenti grandi dell'ordine del 10 15 per cento aggiornata che ovviamente riflettono il fatto di un sistema sanitario che sta rispondendo e dell'efficacia delle misure che sono state messe in atto. La stessa cosa la vediamo sui ricoverati in terapia intensiva. Come sapete i colleghi delle terapie intensive e rianimatori sono quelli che sono più sotto pressione, sono quelli che hanno dovuto allestire in tempi brevissimi degli ospedali che non si erano visti solo in tempi di guerra. Quindi le terapie intensive e le subintensive sono quelle che hanno avuto il maggiore impatto e che forse ci danno la misura della gravità di questa forma clinica. Bene, se guardiamo al 27, 28 e 29 i numeri sono 120, 124 e 50 oggi. Non dobbiamo fermarci a un numero chiaramente, però credo che siano numeri che ci debbono fare riflettere perché ci incoraggiano nel messaggio che è stato dato dai nostri politici, dai nostri esperti che coi nostri comportamenti salviamo delle vite. Io credo sia molto importante perché si riflette nei numeri, che sono numeri reali, il fatto di vedere dei pazienti che salvano, cui salviamo la vita stando a casa, cui salviamo la vita facendo i comportamenti di distanziamento sociale, i comportamenti in cui i viaggi vengono diminuiti, le scuole vengono chiuse. Cioè vediamo il riflesso sui nostri concittadini che a quello che ci dicono i dati e il trend che sta andando muoiono meno e vengono ricoverati meno in terapia intensiva. È ovvio che mi associo all'importante messaggio che ha dato oggi il nostro Ministro della Salute, che quello che ovviamente questo è un motivo non solo per continuare a comportarsi in questa maniera, ma a essere ancora più stretti. Perché quando secondo me si vedono i risultati positivi di quello che si sta facendo si è ancora più convinti in quello che si sta comportando. Quindi questi numeri secondo me come clinico l'interpreto come un riflesso dell'efficacia delle misure che sono state messe in campo e ovviamente sappiamo tutti che è una battaglia molto lunga e quindi non bisogna abbassare la guardia. Ma credo che se posso dare una interpretazione positiva, che credo i numeri mi autorizzano a dare, in particolare il calo sulle terapie intensive, il calo sui deceduti, ci danno dei dati solidi, dei dati concreti, che si riflettono poi sulla vita dei nostri concittadini. Grazie. Diamo spazio alle domande. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. È una domanda che ho già fatto anche in passato. Mi leggo a quello che stava dicendo lei, che il calo dei morti e il calo anche dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sia un fatto positivo, ma il dubbio che molti anche sollevano dalle zone più colpite è che si ricoverino meno persone in terapia intensiva perché non ci sono più posti di terapia intensiva. Vi risulta, al di là di quelli che sono stati trasferiti in Germania, che ci siano problemi anche di allocazione di pazienti che la necessitano nelle terapie intensive. Perché questo è un allarme che viene dai territori, soprattutto di Bergamo, Brescia. Io sono in contatto abbastanza frequente con i miei colleghi della Lombardia. Questo non è l'informazione che io ho sinceramente. E un passaggio come quello che abbiamo visto oggi da 124 a 50 mi riesce difficile pensare che sia dovuto a una saturazione delle terapie intensive. Tanto più che mi risulta che, con l'aiuto ovviamente della protezione civile del Ministero, i posti di terapia intensiva in questo momento siano in incremento e non siano in diminuzione. Le due cose che vanno in parallelo mi fanno più pensare che l'interpretazione di di dire ci sono meno casi gravi e quindi abbiamo fermato quella che è lo spargimento del virus, soprattutto nella popolazione vulnerabile. Vorrei sottolineare, soprattutto nella popolazione vulnerabile, credo che sia l'interpretazione più corretta per questi dati. Stefano Corradino, Rai News 24. Due domande brevi. La prima è relativa alla distribuzione di mascherine. C'era stata una polemica ieri da parte di alcuni Presidenti delle Regioni sul fatto di un fabbisogno che non era stato soddisfatto delle mascherine e delle attrezzature, in particolare il Presidente della Regione Friuli e della Regione Puglia. E poi l'altro dato è sui tamponi. Che tipo di andamento c'è? Io vedo probabilmente un dato che non è stato aggiornato perché leggo che i tamponi dell'Emilia Romagna sono gli stessi oggi rispetto alla giornata di ieri. Quindi per capire quanti ne sono stati fatti complessivamente e se è un andamento regolare o meno. Sì, per quanto riguarda il discorso delle mascherine e dei materiali, ieri è stata una giornata importante, sono stati distribuiti numeri importanti, sono stati distribuiti anche un numero di ventilatori cospicuo dall'inizio dell'emergenza. però il discorso è che c'è un fabbisogno molto molto grande e grazie alle importanti e cospicue arrivi di mascherine e di materiali si sta andando a colmare questo gap. Il gap ancora c'è soprattutto per quello che riguarda le mascherine quelle FFP2 che sono quelle più utilizzate da alcuni sanitari, non da tutti. Però le quantità e le forniture che sono state acquisite nel corso del tempo anche dal Commissario Arcuri ci permettono di dire che stiamo andando in una situazione in cui sarà sempre minore e si annullerà quello che è il deficit di mascherine. Il prima possibile ci auguriamo noi, questa settimana ci sono importanti consegne di mascherine che arrivano dall'estero. Per quanto riguarda invece il numero dei tamponi ha evidenziato bene il numero dei tamponi delle Emilia Romagna è di circa 3.500, adesso avremo il dato che sta arrivando, prosegue nel trend dei giorni scorsi. Io non vedo particolari difficoltà e criticità nel numero dei tamponi. Buonasera Sabene, Tg2. Volevo legarmi alla domanda del collega perché sembra che dalla videoconferenza di ieri tra il Ministro Boccia e il Commissario Arcuri, forse dovrebbe in qualche modo rispondere lui ma purtroppo non c'è questa sera, e un fronte molto duro, almeno stando ad alcuni dati, alcune informazioni che arrivano dalla stampa, ci sia questo fronte duro tra le regioni capitanate in qualche modo dalla Puglia soprattutto e dal Friuli Venezia Giulia nei confronti proprio del Governo. Per quale motivo? Oltre a tutti quelli che sono i materiali per la sicurezza personale, facciamo riferimento naturalmente alle mascherine, guanti e quant'altro, le regioni dicono questo. Tutto quello che noi vi chiediamo, tutto quello che noi... anche quello che ci arriva non è sufficiente, per questo fa bisogno di cui si parlava, e molto spesso questa redistribuzione del materiale avviene per la densità dei malati nelle regioni e non per la densità ad esempio di dottori e tutto quello che è il personale sanitario, perché le regioni dicono i primi a essere colpiti dal coronavirus sono i medici e spesso operano in condizioni anche di asintomaticità, non lo sanno, e sono i primi untori non volendo. Quindi questo è... e stamattina, come ripeto, molti organi di stampa riportano queste, chiamiamole frizioni, se vogliamo essere abbastanza teneri in questo senso, ma c'è uno scontro vero e proprio. Noi chiediamo, dicono le regioni, un tot, ci arriva altro. I primi a non essere al sicuro sono i dottori. Lei cosa ne pensa, Borelli? Cosa ci può dire rispetto a questo? Magari in questa fase non è più il suo compito, però magari ci può rispondere allo stesso. Io credo che sia una normale dialettica che c'è quando si tratta di discutere di quella che è la distribuzione. Proprio ieri c'è stata una riunione per definire i nuovi criteri di distribuzione da parte del commissario e lo stesso commissario ha convenuto sulla base di quelle che sono le scelte condivise delle regioni di tener conto anche della distribuzione del numero dei sanitari. Quindi sui criteri si sta lavorando insieme con le regioni si è trovato una soluzione condivisa con le regioni. Qual è questa soluzione? La soluzione condivisa è quella di tener conto anche del numero del personale sanitario, oltre che il numero dei pazienti colpiti dal coronavirus, che è una soluzione che è stata avanzata da alcune regioni e condivisa anche dal commissario. Quindi sotto questo punto di vista si è trovato una condivisione anche sui criteri di riparto. È ovvio che i fabbisogni sono quelli rappresentati e il commissario sta procedendo a soddisfare questi fabbisogni sulla base degli arrivi via via crescenti. Non vi nascondo che la settimana scorsa è stata la settimana più impegnativa per tutti quanti noi perché, mi riferisco alla settimana precedente, a questa che si sta chiudendo, perché avevamo un numero limitato di mascherine. Lo stesso commissario nella sua dichiarazione ha evidenziato il numero delle mascherine, si è passato ad una distribuzione media di 300.000 mascherine al giorno a diversi milioni di mascherine. Quindi si sta lavorando nella consapevolezza che le mascherine sono un bene prezioso ed è anche scarso. Per questo si sta incrementando la produzione nazionale, il lavoro che sta facendo il commissario. Si sono potenziate le importazioni e quindi si iniziano a vedere, a mio giudizio, i primi risultati. Posso fare un commento brevissimo sulla categoria dei medici e degli operatori sanitari che ovviamente sono stati e sono ancora in prima linea e sono il primo fronte che il paziente trova. Prima di tutto vorrei fare non a lei, non ci conosciamo, ma in generale un appello a non usare il termine untore. Cioè il termine untore è un termine sbagliato, è un termine dispregiativo, è un termine terroristico, è un termine tra l'altro inappropriato per questo tipo di malattia. Ci possono essere dei vettori delle persone che trasmettono il virus, delle persone che possono contagiare altre. Per quanto riguarda i medici in particolare, ricordo ci sono stati più di 50 medici deceduti in Italia e tanti altri in altre parti del mondo. Ricordo che questo virus era sconosciuto tre mesi fa, quindi quello che è il livello di contagiosità, quelle che sono le modalità di trasmissione, quello che contano fattori tipo la carica virale, cioè quanto virus uno respira, il tipo di difesi immunitarie che ci sono dietro, sono tutte informazioni che stiamo e stanno i ricercatori di tutto il mondo acquisendo. È chiaro che i dispositivi di protezione individuale sono una base indispensabile per quello che riguarda la protezione degli operatori, ma voglio ricordare che negli ultimi settimane tutti gli ospedali si sono dotati di percorsi dedicati, che sono forse la cosa più importante. Ricordiamoci che all'inizio di questa epidemia noi non ci aspettavamo questi malati, questi malati sono arrivati nei pronto soccorsi e ci ha trovato sguarniti ovviamente. In questo momento in tutti gli ospedali del nostro Paese, gli ospedali d'Europa, gli ospedali del mondo, ci sono percorsi predefiniti che fanno un triage specifico per questi pazienti, che li proteggono i pazienti e proteggono gli operatori e gli altri pazienti. Quindi è vero che i DPI cosiddetti sono importanti, ma è anche molto importante quello che stiamo mettendo in atto come ospedali, come strutture sanitarie, per la preparazione attraverso percorsi che riducono le possibilità di contaminazione del personale sanitario. Ciò non toglie che chi fa il medico, diciamo, è un rischio, non dico calcolato, ma è un rischio che è implicito nella propria professione. Quindi rimane sempre che si è più esposti rispetto a chi fa un'altra professione. Ma concordo con lei che sia importante fornire ai medici e il personale paramedico di tutti i dispositivi. Ma ricordo che i percorsi e le procedure sono forse, non dico più importanti, ma importanti tanto quanto i dispositivi. Scusi se poi completo questa sua osservazione. Perché il dato era stato evidenziato, ed era una sorta di richiesta vera e propria, dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Oltre i 6.500 medici sono stati contagiati. A loro volta hanno contagiato. È chiaro, la parola untore è stata utilizzata per prima linea della Federazione. Soprattutto, mi scusi se completo, il professor Rezza, pochi giorni fa, ha ammesso, in diverse interviste, che c'è stato un errore fondamentale a lasciare da soli i medici e, in quel senso, cioè a non averli protetti con materiale giusto, con il materiale più appropriato. Questo, se l'allarme arriva da chi è in prima linea, allora noi non possiamo fare altro che recepirlo. Lei ha perfettamente ragione. Quello che le volevo dire è che la impreparazione che c'è stata, diciamo inevitabile iniziale, ricordiamoci che questo virus incominciano ad esserci dei dati molecolari, degli studi e sierologici che ci fanno pensare che circolasse in Italia in primi giorni di gennaio. E abbiamo avuto il primo caso diagnosticato il 20 di febbraio. Quindi è chiaro che c'è stato un momento in cui gli operatori sanitari e le nostre strutture, tutti noi, eravamo impreparati perché non sapevamo. Questo ovviamente non è responsabilità di nessuno, è quello che è successo ed è inutile recriminare su quello. Che poi sia importante vedere gli operatori sanitari e gli ospedali come un punto cruciale di controllo della trasmissione dell'epidemia, questo su questo siamo assolutamente d'accordo, ma credo che possiamo concordare che si sta facendo non il possibile, credo anche di più del possibile. Rimane il fatto che questi percorsi per essere messi in piedi richiedono tempo, richiedono risorse, richiedono strutture che sono quelle che stanno arrivando, che soprattutto nelle regioni più colpite, penso alla Lombardia, penso a parte dell'Emilia Romagna, sono stati messi in piedi in una situazione di assoluta emergenza. Quindi diciamo sono giuste le critiche, sono giuste le osservazioni, ma devono essere secondo me contestualizzate in un contesto unico, speriamo irripetibile, che ci siamo lasciati dietro. Buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Riformista. Torno su un tema che ho già affrontato ieri con il dottor Borrelli e mi auguro che nella conferenza di domani dell'Istituto Superiore di Sanità si possa avere una risposta precisa. La domanda è avete coscienza, credo, e non basta diciamo il grido di dolore del sindaco di Bergamo e di altri sindaci, che i dati che ci state fornendo e quindi anche le indicazioni di trend, come diceva il professore, un segnale positivo nel decremento dei decessi, è un dato oggettivo e ci auguriamo che continui così questa questa linea, che c'è una quantità non stimata, c'è chi dice mille, c'è chi dice duemila, c'è chi dice addirittura tremila, di morti come dire nascosti, cioè non censiti dalle statistiche. Questo è un problema che oggettivamente è grave e ci domandiamo, mi domando, vi domando, se qualcuno si sta attrezzando per fare in modo che il dataset sia più completo. Seconda domanda, come dire, secondo le statistiche Istat antecedenti alla crisi, all'epidemia, in Italia muoiono ogni giorno, sono morti mediamente nel corso dell'ultimo uno, due, tre anni, 170 persone per malattie respiratorie infettive. la domanda, come dire, non è oziosa. I morti che si stanno registrando in questi giorni, diciamo, sono al netto, sono all'ordo, secondo voi, di quello che comunque era un dato oggettivo discretamente inquietante nel corso dell'anno per patologie di quel tipo, indipendentemente dall'epidemia. Grazie. Provo a rispondere io, poi professore se può integra. Allora, sul primo dato, io ho parlato anche col professore Brusaferro, è una analisi che stanno facendo loro e domani potrete rivolgere a lui, direttamente all'Istituto, questa domanda perché mi ha anche detto come stanno verificando la possibilità di recuperare i dati e avere dati di chi è morto non in ospedale. Noi stiamo ai dati ufficiali, io do i dati ufficiali e sono questi i dati che vengono forniti dalle direzioni sanitarie delle Regioni. L'altra domanda qual'era, scusate? L'altra domanda è che comunque ogni anno ci sono un certo numero di morti che dipendono da, diciamo, polmoniti, ecco, per essere semplice, infezioni dell'apparato respiratorio. Questo è molto vero. Tutti gli anni noi abbiamo circa 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 800 mila casi di polmonite e abbiamo 11-12 mila morti di polmonite che non hanno niente a che fare col coronavirus perché il coronavirus è nuovo. La sua domanda è se questi si sommano a quelli. Certo, ovviamente si sommano a quelli e speriamo che questi, come sono venuti, se ne possano andare perché questo coronavirus speriamo che non rimanga con noi per sempre, però il tema è quello che la polmonite è una patologia prevalente, una patologia che ha una mortalità. Fortunatamente per alcune forme di polmonite abbiamo degli strumenti, abbiamo i vaccini ad esempio, abbiamo terapie antibiotiche, abbiamo terapie che sono efficaci, cosa che non abbiamo ancora al momento per questa forma di polmonite e che speriamo di avere presto. Buonasera, Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. Il professor Ricalli diceva appunto che i numeri di oggi sono positivi soprattutto per quel che riguarda i deceduti e le terapie intensive. Qui ogni giorno vengono elencati, diciamo, i numeri che ogni giorno vengono riportati dalle regioni alla protezione civile. Però immagino per il futuro non può essere necessario fare una stima di quelli che sono oggi i reali contagiati. C'è un sistema che potrebbe permettere questa stima anche per permettere decisioni poi al governo su eventuali riaperture, le discussioni che già da ieri sono iniziate, sono ricominciate. Ecco per fortuna ho premesso che non sono un epidemiologo quindi posso dire praticamente quello che voglio, ma le dico quello che però ho sentito in Commissione Tecnico Scientifica. La Commissione Tecnico Scientifica anche in accordo ovviamente con l'Istituto Superiore di Sanità e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta implementando questo tipo di studi. Cioè quello di cui sta parlando lei sono studi epidemiologici. Ora gli studi epidemiologici non possono essere fatti in un periodo emergenziale. In un periodo emergenziale voglio ricordare che ci siamo trovati di fronte a giornate e anche oggi siamo in una giornata come quella in cui abbiamo centinaia di morti. Quindi gli studi epidemiologici di prevalenza, di incidenza, di nuovi casi secondo me avranno tempo di essere fatti. So che sia l'Istituto Superiore di Sanità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Spallanzani e altre strutture italiane stanno pianificando questi studi, che sono studi molto importanti, saranno studi molto importanti soprattutto quando questi numeri continueranno come speriamo a calare. In quel momento questi studi avranno ancora più importanza. In questo momento quello che ha importanza è implementare in maniera rigida, inflessibile e continuativa le misure di distanziamento sociale che sono in atto nel nostro Paese. Buonasera Matteo Quidelli dell'Ansa. Volevo chiedere al Commissario, ieri sera il Premier ha annunciato un'ordinanza di protezione civile con 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni per dare soldi a chi non riesce a comprare da mangiare. Volevo capire a che punto era questa ordinanza e soprattutto come verranno ripartiti i fondi ai Comuni e se verranno dati dei buoni direttamente ai cittadini oppure se verrà distribuito un assegno mensile, una tantum, come era previsto inizialmente. Grazie. Allora, firmerò, adesso è alla bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, l'ordinanza. La firmerò da qui a breve, appena tornerò su e avrò avuto il testo dell'ordinanza. Prevede una ripartizione sulla base del criterio della popolazione e anche del criterio del rapporto tra l'indice di reddito e... Aspettate così troviamo... Eccolo qua. In base alla distanza tra il valore del reddito pro capiti di ciascun Comune e il valore medio nazionale ponderato per la popolazione. Quindi si tratta di un contributo che viene dato. C'è la possibilità di aggiungere a questi contributi donazioni ai Comuni per solidarietà e vengono gestiti attraverso dei buoni spesa per l'acquisto di derrate alimentari e di generi alimentari. La gestione di queste buoni spesa sarà a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze e i Comuni potranno avvalersi anche degli enti del terzo settore, dei volontari di protezione civile per l'acquisto delle derrate e per la distribuzione. Quindi confermo quello che è stato detto, confermo gli importi che sono stati detti e questa ordinanza sarà immediatamente operativa. Allora se non ci sono altre domande terminiamo qui. Grazie e buonasera a tutti.